Siamo con Simone D'Urso, giocatore del basket jarre e allenatore delle squadre promozione under 20 dei Gello Blu. Partiamo ovviamente dal vostro campionato di serie C-Silver, dall'ultima sconfitta contro la Fortitudo Agrigento. È suonato un campanello d'allarme essendo il secondo cappavo di fila? Sì, non tanto per il risultato ma per come è avvenuto il risultato. Ad Agrigento è successo che siamo partiti male, durante la partita ci siamo tirati a zappa sui piedi, eravamo una squadra troppo nervosa e ci siamo troppo affidati ai valori assoluti dei giocatori, dimenticandoci dei valori assoluti della palacanestro, che poi sono quelli che fondamentalmente vanno a fare la differenza anche quando si è un gruppo competitivo come è il gruppo di prima squadra di quest'anno. Domenica c'è questo incontro con il Barcellona, è uno scontro diretto perché siete a pari punti e a metà classifica, quindi l'importante sarà non ripetere gli errori di Agrigento in primis. Assolutamente, dobbiamo ripartire da quelli, ne abbiamo parlato a lungo in settimana, c'è stata una riunione con tutta la dirigenza, semplicemente per confrontarsi sulle proprie idee e su quello che dobbiamo fare. Siamo contro una squadra che ha la nostra portata, una squadra che gioca una palacanestro diversa dalla nostra, una squadra molto più giovane, che ha in granici il loro lungo sicuramente il giocatore di riferimento, però è una squadra che nonostante i nostri stessi punti, secondo me è assolutamente abbordabile, in casa nostra dovrà affaticare. Ultima domanda che stavolta riguarda il tuo ruolo di allenatore, oggi in campo in promozione contro Gravina, questi ragazzi meritano veramente tanti elogi? Assolutamente sì, finora stanno andando nettamente al di sopra delle aspettative, siamo una squadra tipica, una squadra che veramente non c'entra nulla con tutte le altre, una squadra che gioca senza lunghi, una squadra di tutti i giocatori dai 20 anni in giù, una squadra quindi giovanissima e che ha un'idea chiara quando va a giocare, abbiamo perso di un punto la partita col San Luigi che era prima in classifica, a mio parere dominando la partita, perché sono state 39 minuti avanti, sono state anche sul più 10, nel finale per vari motivi che adesso non sto qui a ricordare, siamo crollati, contro Gravina oggi è un altro big match perché in questo campionato fondamentalmente siamo tre squadre di alta classifica e poi le restanti, sono sicuro che i ragazzi faranno la loro partita, rispetteranno la loro identità di squadra come andrà a finire, andrà a finire.